Siamo con il professor Guido Cohen, direttore del reparto di Odorino alla Ringola della Tria dell'ospedale Sant'Ugegno di Roma e segretario, soprattutto in questa veste oggi, di segretario dell'Anao e dell'Assomet, Associazioni dei Medici Dirigenti, perché insieme a tutte le organizzazioni sindacali che raccogliono i medici hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per il 16 di dicembre. Nel manifesto dove viene annunciato lo sciopero ci sono una serie di punti, li leggiamo e poi li commenteremo insieme al professor Cohen, appunto, punto per punto. Più sicurezza negli ospedali, più soldi per le cure dei pazienti, più personale nella sanità, meno affollamento nei pronto soccorso, meno tempo in ospedale. Per questi diritti negati siamo costretti a scioperare. Allora partiamo dal primo professore. Più sicurezza negli ospedali. Che vuol significare? Significa questo, che la politica dei tagli all'interno del sistema sanitario nazionale negli ultimi otto anni e la mancanza totale di un contratto ha portato a una uscita dal sistema di una serie di professionisti mai rimpiazzati. Per cui che vuol dire? Vuol dire che il ruolo che prima avevano dei professionisti ora non lo ricopre più nessuno, per cui i professionisti che ancora sono nel servizio sanitario sono spesso trattati in maniera inadeguata, nel senso che sono stressati, fanno molti più turni di quello che devono fare, per cui il sistema sta piano piano andando verso una deriva che non è più sicura. Diciamo sicuro, abbiamo usato questo termine proprio per far capire ai cittadini che noi non stiamo lavorando contro di loro, cioè questo sciopero non è contro il cittadino, ma è per il cittadino, perché oltre a essere tutelati da noi, perché noi cerchiamo sempre di fare il bene del paziente, per cui in qualche modo non li metteremo mai in difficoltà né in pericolo, però siamo arrivati a un punto per cui il Governo deve in qualche modo risponderci e almeno mettersi a ragionare su che cosa vogliamo dalla sanità pubblica. Ecco, e quanto c'entra questo tipo di considerazioni rispetto al problema dell'appropriatezza posto dalla Ministra Lorenzin e anche dall'applicazione della legge 161, quella che adesso stabilirà quelli che devono essere gli orari di lavoro da parte dei medici, della sanità in generale? Allora, la legge 161 che è stata recepita dall'Italia con dieci anni di ritardo rispetto alla Comunità Europea e deriva dal fatto che la Comunità Europea ben 12-13 anni fa abbia dato delle direttive e noi non le abbiamo seguite, per cui abbiamo pagato delle multe, abbiamo fatto sempre a stralcio, abbiamo fatto delle modifiche non regolari, abbiamo sempre lavorato più di quello che si doveva, adesso dobbiamo lavorare secondo le norme europee. Lavorando secondo le norme europee il personale è poco per dare tutti i servizi che siamo stati abituati a dare. Pertanto bisogna trovare una formula per cui bisogna assumere infermieri e medici, cioè personale, affinché le situazioni della salute pubblica possano essere ben gestite dalle strutture. Siamo in grave carenza di organico, un po' perché il personale è andato in pensione e non è stato riassunto, un po' per colpa della colpa, perché questa legge impone un riposo dopo il lavoro, cosa che fino adesso non è stato ben gestito. Per cui c'entra un po', c'entra in qualche modo, ma noi chiediamo assunzione di nuove, di personale o, come fanno invece alcune regioni, chiuderanno dei servizi. Per cui il cittadino questo lo deve sapere, che non è colpa nostra, è colpa della legge che non è stata messa a regime dalla politica. Quindi voi riconoscete la bontà della legge per quanto riguarda l'orario di lavoro e quello che questo comporta. Nel contempo però serve il personale che copra il realtà. Sì, perché la legge in realtà ti obbliga a 11 ore di riposo dopo un turno di 12 ore, il che mi pare normale. In più ti impone un tetto massimo di lavoro settimanale di 48 ore, cosa che adesso non si faceva. Adesso avevamo persone che facevano anche 60-70 ore. lei capisce che dal punto di vista della stanchezza lavorativa eravamo molto oltre alla normalità. 48 ore già sono tante, però questo è il tetto che dà l'Europa. Ecco, andiamo alla questione invece del Vildanaro, più soldi per le cure dei pazienti. I tagli previsti dal governo, il discorso sull'appropriatezza, però tutto questo non confligge anche con un altro dato, che siamo forse il paese che spende di meno, almeno dei paesi più avanzati. È proprio questo il discorso, cioè noi continuiamo a ridurre le risorse economiche per la sanità quando siamo già il paese più virtuoso d'Europa, dando una sanità di alto livello, perché noi ricordiamoci siamo uno dei pochi paesi al mondo che diamo il rispetto della salute equo e solidale, cioè tutti quelli che hanno bisogno vengono curati. E questo ha un costo, non è che non costa. Il fatto è che continuando a levare risorse economiche, noi rimpoveriamo sempre di più la qualità dell'offerta. Ecco, quanto c'entra il problema posto sempre dal Ministro della Salute riguardo al tema dell'appropriatezza. L'appropriatezza c'entra senz'altro, non è questo il metodo per andare verso l'appropriatezza. Noi infatti chiediamo una legge nella quale si valuti esattamente la colpa dell'operatore, cioè se qualcuno di noi è colpevole di aver fatto qualcosa che non va, siamo i primi a voler pagare. Ma non è giusto che, come succede ora, sul tema dell'appropriatezza e sul tema della colpa si sia fatto un gran bailam, perfetto, mi veniva un altro termine, e chiaramente si vede come l'operatore, che sia medico, che sia infermiere, che sia l'operatore della sanità, sia il primo colpevole di qualcosa che non va anche a livello strutturale. Per cui finalmente sta in dirittura d'arrivo una legge, che però deve essere una legge, non degli articoli spezzettati e dati in una legge o un pezzo in un altro, una cosa organica nella quale si stabilisca l'appropriatezza e le colpe di chi fa che cosa. Tutto questo non rischia di portare a una sorta di medicina difensiva al contrario? No, no, perché dal punto di vista pratico nessuno di noi diventerà mai al contrario, semmai dobbiamo difenderci dagli attacchi di chi lucra sulla salute pubblica. Noi non siamo certo noi quelli che lucrano su questo. Senta, parlavamo delle risorse, risorse, e abbiamo detto siamo tra i paesi più avanzati che spendono di meno in sanità, però siamo il paese dove c'è una forte presenza di sprechi. Quello sicuramente, ma non è con la legge che le cambi, cioè non è limitando il personale, perché poi invece di dare una botta agli sprechi quelli veri, continuiamo a tagliare sul personale, che è più facile chiaramente. Io credo che tutta la nazione, non solo nella sanità, dovremmo cercare di ridurre le spese inutili o sprechi e focalizzarci su ciò che è utile. Però non credo che si vada in tal senso. Qua continuiamo a tagliare solo sul personale. Ecco, lei ha insistito molto sulla questione del personale, infatti il terzo punto del vostro manifesto è più personale nella sanità. Mi chiedevo, come si concilia tutto questo con il turnovere, con il piano di rientro? Viene da chiedersi cosa accadrebbe se domani mattina per esempio tutti i precari che operano nella sanità decidessero di andare a fare un altro mestiere. Il cittadino avrebbe ancora meno servizi, il cittadino avrebbe delle difficoltà enormi a recarsi in un ospedale o in una struttura territoriale ad avere i propri servizi, perché ricordiamoci che alcuni servizi sono retti solamente da personale precario. Ecco, io trovo abbastanza incongruente, contrastante, almeno dal punto di vista logico, il fatto che si dica dobbiamo contenere la spesa e per contenere la spesa non puoi assumere personale, uno su dieci. Questo sono otto anni che siamo in queste condizioni a Regione Lazio, specialmente che siamo una delle regioni carogne, cosiddette per la spesa, e sono otto anni che praticamente non si assume nessuno, se non precari che si mettono sotto forma di spesa in un altro tipo di spesa. Per cui abbiamo una marea di persone che fanno un lavoro sicuramente qualificato, che però sono sottopagati e non hanno nessun futuro di assunzione, perché il DPCM che pone i precari verso una soluzione al problema dei precari non dà soluzione a una marea di precari, sistema solamente il 20-25% degli attuali precari, cioè quelli che hanno un contratto a tempo determinato. Tutti gli altri rimangono precari e non hanno una barlume di soluzione. Ecco, mi chiedevo, il medico che sta al pronto soccorso nelle condizioni che spesso abbiamo visto pubblicizzare, forse anche in maniera piuttosto sbagliata, nel senso che sembra che la colpa di certe mancanze dipende dal medico che sta al pronto soccorso, però spesso quel medico è un medico precario, che sa che il contratto riscala alla fine dell'anno. Psicologicamente come si lavora? Lo chiedo a lei, come si lavora? Marissimo, perché chiaramente chi non ha certezza del proprio futuro non può essere tranquillo e rilassato, anche perché spesso copre dei ruoli molto importanti che non sono contrattualizzati, cioè in qualche modo viene assunto per fare una cosa e poi viene messo a farne un'altra. Ecco, il quarto punto del vostro manifesto parla di meno affollamento nel pronto soccorso. Le case della salute non sono una risposta rispetto a queste esigenze? Ma le case della salute non ce ne sono, non sono state attuate, il problema vero è che la riforma, potrebbe essere una delle soluzioni, ma il problema vero è che noi abbiamo spostato l'assistenza dagli ospedali al territorio, almeno concettualmente, concettualmente si dice che il territorio deve dare più assistenza, per cui il cittadino va in ospedale solo per alcune cose. Invece nella nostra regione, io parlo del Lazio, purtroppo il cittadino vede nell'ospedale l'unico baluardo di salute, per cui abbiamo un territorio che viene foraggiato a punto di vista economico per il 52% della spesa, che però non dà l'assistenza, dovrebbe dare, per cui il cittadino quando ha un problema si rivolge all'ospedale. L'ospedale non ce la fa più, per cui le liste d'attesa, cioè le liste più che le liste, l'attesa nei pronti occorsi è data dal fatto che nel pronto occorso arriva una marea di persone che non dovrebbe arrivarci, perché ci dovrebbe essere qualcun altro che fa da filtro sul territorio. E l'accordo con i medici di famiglia, con gli studi associati, sono una risposta in questo caso? È una delle tante risposte, ma non credo che ancora si vedano risultati, né di quello né di casa salute, perché le case di salute dovrebbero essere gestite dai medici di famiglia, cosa che ancora non fanno, perché nelle case di salute ci sono medici ospedalieri trasferiti, o dipendenti, trasferiti nella casa di salute. E non è per cui questa è la risposta, la risposta è la vera casa della salute, la vera aggregazione di medici di base che danno assistenza al cittadino. Ecco, il ministro Lorenzi in tempo fa ha fatto una dichiarazione che ha creato una sorta di preoccupazione, o quantomeno diciamo meglio di disaccordo da parte anche del mondo, della sanità, quando ha sostenuto che l'esperienza della sanità regionale è un'esperienza sbagliata e che probabilmente bisognerebbe ritornare tutto al centro. È questa la soluzione? No, allora, il problema della sanità regionale è che si è capito che le regioni in qualche modo hanno creato sprechi, perché hai creato 21 sistemi di sanità, uno diverso all'altro, nel quale non si normalizzano tutte le procedure. Ognuno ha la sua sanità. Questo è quello che vuole dire il ministro. Chiaro che le regole generali, se nascessero dal centro, cioè dal governo centrale, avrebbero probabilmente un migliore recepimento a livello periferico. Il fatto è che qua ogni regione fa come vuole, per cui ci sono regioni virtuose dove la sanità è molto buona ed è anche inattivo. Ci sono regioni invece poco virtuose dove la sanità è un disastro e sono anche in deficit per la sanità. Vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Ma tra questo qualcosa che non quadra non c'è la responsabilità di chi dovrebbe controllare che ILEA fosse... Non lo voglio dire io. Noi medici cerchiamo di fare questo, però c'è qualcun altro al di sopra che gestisce la sanità. Non siamo noi. Non siamo noi che gestiamo ILEA. ILEA noi li applichiamo. Noi cerchiamo di arrivare ai livelli essenziali di assistenza. Tutto ciò che noi facciamo è in quell'ottica. Ma chi gestisce dal punto di vista finanziario non siamo noi. Arriviamo al quinto punto del vostro manifesto. Meno tempo in ospedale. Ecco, come realizzare questo obiettivo? Quanto conta la fase della prevenzione, della riabilitazione e non da ultimo anche dell'assistenza domiciliare? Conta tantissimo, perché noi ormai siamo arrivati al punto che i pazienti che devono fare degli interventi di tipo elettivo, cioè non urgenti, arrivano in ospedale già tutti preparati la mattina stessa in intervento. Per cui già il preoperatorio abbiamo abbastanza tagliato. Il problema è il dopo. Il dopo è il cittadino che ha bisogno di riabilitazione, di assistenza domiciliare, spesso non la trova. Non ho detto che non la trova mai. Spesso non la trova. Per cui è l'organizzazione che dovrebbe prevedere un accordo corretto tra chi tratta il paziente in ospedale e il territorio. La risposta è anche quella dei reparti infermieristici che vengono a sostituire. Sicuramente. Il reparto infermieristico ha un significato notevole. Se fosse però gestito in maniera solidale con i medici curanti. Perché ricordiamoci che l'infermiere non può fare diagnosi. Può solamente fare una terapia che gli viene consigliata dal medico. Per cui si è fatto un sacco di confusione cercando di passare all'infermiere un'attività che non è propria. L'infermiere per sua vocazione è uno che fa assistenza. Per cui l'assistenza è dell'infermiere mentre la prescrizione e la diagnosi è del medico. Ecco, con questi punti che voi avete elencato nel vostro manifesto per lo sciopero del 16 dicembre è creare un'attenzione alla parte del Paese riguardo a questi temi. Ma dal punto di vista dell'incontro con chi poi è la controparte, quindi il governo, c'è una possibilità da questo punto di vista? Il governo è latitante, totalmente latitante. Non sembra interessato ad avere rapporti con i professionisti per cui noi ci troviamo orfani in questo senso. Cioè noi abbiamo idee, potremmo aiutare almeno a migliorare la qualità di quello che facciamo, ma il governo non ha il suo interesse a ragionare con noi. Senti, l'ultimo punto è quello nel quale voi sottolineate che appunto con queste motivazioni sentite di porre il problema all'attenzione del più generale consenso da parte dei cittadini. E quindi un richiamo all'articolo 32 della Costituzione, laddove si parla appunto del diritto alla salute. Mi permette una malignità. Dietro questo c'è, non la vostra azione, ma chi non recepisce questo tipo di intenzioni che voi portate avanti. C'è forse quello di depauperare ogni giorno di più la sanità pubblica a favore della controparte, quindi della sanità privata? È un sospetto che ci viene sicuramente tutto. Però non credo che ci sia un progetto, ma purtroppo si finirà così. Cioè il discorso è che forse il progetto neanche c'è, non voglio essere maligno, non voglio dire questo. Però se continuiamo ad andare avanti così, cioè depauperando la sanità pubblica, si andrà piano piano verso una sanità privata che il cittadino dovrà pagare. Per cui se il cittadino vuole assistenza dovrà pagarsi l'assistenza, come in America, come in paesi forse ancora più democratici dei nostri, almeno tra virgolette. Però meno democratici dal punto di vista dell'assistenza sanitaria, quantomeno? Sicuramente. E proprio dalla postazione della quale lei si trova all'ospedale Sant'Urgenio, sente che c'è questo tipo di pericolo? Sicuramente. A favore? Di strutture vicine che si sono attrezzate molto meglio di noi, perché loro non hanno il laccioli della politica che prevede tutto e niente. Loro sono dei privati che vanno dove più gli conviene e in qualche modo sono molto agili, molto svelti a fare cambiamenti. Per cui se ci si rende conto che domani serve qualche cosa, loro lo comprano. Noi se domani serve qualcosa lo compreremo tra una settimana. Per cui arriviamo sempre tardi. Grazie.